Ciao, popolo, bianco-nero. Di nuovo? Ciao, popolo, bianco-nero. Oggi siamo in tre. Uno, due, due e tre. Perché oggi è un giorno speciale. Oggi il calcio non c'entra un cazzo. Per tre, quattro, cinque minuti mettiamo da parte il calcio. O meno facciamo un piccolo accenno. Perché oggi è il compleanno della nostra amica, amica, componente della famiglia, Libiulina. Una splendida razza di esemplare, anche se è un po' moscetta oggi. Che cazzo stavo dicendo? Amstaff. 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 Che compie tre anni la nostra Libiula. Eccola qua. Che si vergogna e si nasconde. E vi facciamo anche nei commenti, amici, tanti auguri alla nostra Libiulina che si nasconde. Tanti. Dove è andata? Di qua, di qua. Se ti giri di qua la vedi. Libiulina, guardate come si vergogna e si nasconde. Ti vergogna delle telecamere, Libiula. E non seguimo lo zio. Eccola qua. Eccola. La telecamera ti fanno gli auguri ai nostri amici bianco-neri. Guarda le vecchie. Guarda le vecchie. Guarda le vecchie, si vergogna. Guarda le vecchie. Guarda le vecchie. Amore. Che bisogna volere tanto... Si scambiano per pazzi, vabbè. Tanto bene i cani perché ci danno... Che cazzo? Ci danno tanto amore e tanto, 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 tanto affetto. Ma fatti vedere alle telecamere Libiula. Ai nostri amici di YouTube. No. No, no, no. Guardate, cosa fai di vergogna? Guardate quanto è bella. Se mi cade il telefono sono cazzi amari. Quanto è bella la mia Libiulina. La nostra... Questa è la mia sesta nipotina. Quanto cazzo siete? Non so. La mia sesta nipotina. Guardate che esemplare meraviglioso. Un hamstaff dolcissimo e amorevole. Vero amore? E bacino zio. Tanto bacino zio. Oggi è un po' pensierosa. Non si capisce come mai. Bella. E niente, facciamo due domandine sulla Juve? Vai. Ma proprio due. Non farà la timida però. Non lo rifaccio il video, te lo dico. Vai. Allora, rispondi alla domanda, rispondi ai nostri spettatori che sono preoccupati perché Di Bala potrebbe andare via dalla Juve. Se hai qualche giorno che si parla di questa notizia. Tu vuoi che Di Bala va via? No. Ronaldo? No. Ecco qua. Però Di Bala è scarso. No, come Di Bala è scarso? Un pochino sì. Ma no, no. Perdonatela ragazzi, perdonatela. Un pochino. Ma no, non è scarso. Di Bala, come è scarso? Dai, eh. È stato il miglior carciatore della Serie A? Nel 2016. No, no, quest'anno. E come è scarso? Perdonatela ragazzi, perdonate, perdonate. Ancora deve capire bene i meccanismi. Adesso la cresco, la cresco bene, la cresco. Quindi devono rimanere tutte e due? Sì. Tutte e due, tutte e due. Voi cosa ne pensate? Facciamo ancora gli auguri a Libiula? Ma fai gli auguri? Ma perché sei così moscetta, amore? Oggi è un po' così, forse non lo so, è triste che stai invecchiando, stai invecchiando. Ha fatto appena tre anni. Ha fatto appena tre anni. È un po' un moscetto oggi, ma di solito non è così, è molto, molto più visto. Niente, chiudiamo che la gente ne frega un cazzo, sinceramente. Va bene ragazzi, io vi saluto. Ancora auguri alla nostra Libiolina. Like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche su tutte, sempre Forza Juve.